Buongiorno, sono Gaetano Alberto, il chef di Toscani Ristorante in Cora Spring. Non andate a niente, quando arrivi, ho raccontato il mio cuore di coniac. Benvenuti, sono Gaetano Alberto, il chef di Toscani Ristorante in Cora Spring. Ora faccio un cuore di coniac. Un salto di batter, il cuore con un piccolo tocco di flore. Quando il cuore ha il colore, il turno del cuore. Ora mettiamo il vino bianco, un tocco di cognac, per il flambe, e un tocco di acqua. la crema, la crema, la crema, una half spoon di Dijun Mastard, il pepe rosso, la base di bianco, e un tocco di pepe rosso, il tabasco, lo mettiamo in un piatto, e mettiamo la crema, con il pepe rosso, il pepe rosso. il cuore coniac è pronto, venite a vedere me in Toscani Ristorante in Cora Spring. Grazie per aver guardato, e arrivederci. e arrivederci.